Lei è il padrone di casa? Sì, sono il padrone di casa, è il figlio del padrone di casa, comunque li gestisco io questi appartamenti. Che scelta sta facendo? La scelta è chiaramente drastica perché io pur di rispettare l'ordine pubblico sono disposto a rinunciare agli affitti, quindi le persone che hanno creato i problemi già sono state mandate via un mese fa per un altro fatto analogo e questo mese, come gli scadrà il mese di affitto andranno via anche gli altri. Questa palazzina che si trova alle ville Monterchi dove si sarebbe verificata la violenza di gruppo e l'aggressione al fidanzato della giovane non è evidentemente nuova a fatti di cronaca. Quando c'è stata quella retata a Rezzo per la droga hanno fatto un blitz anche qui, sono stati sei ore, hanno circondato tutto il palazzo con sei volanti e cercavano sulla roba, sul boschetto qui sotto, i sacchi, poi sono andati via con un po' di roba. A raccontare gli episodi sono i vicini di casa tra cui anche il sindaco Alfredo Romanelli, un continuo via vai di uomini e donne ed un episodio grave di fronte ad una ragazzina di 16 anni, uno dei nigeriani avrebbe urinato dalla finestra. Urinare dal secondo piano tranquillamente così perché gli va? Alla domanda ma non hai il bagno in casa? Qual è il problema? Io il fatto che il giovanotto ha fatto la pipì dal terrazzo io l'ho già denunciato la settimana scorsa. Ai carabinieri di Monterchi che sono già intervenuti, sono già stati. Il brutto è che c'è un senso veramente generale di impunità. Io li ho più volte denunciati, li ho denunciati al prefetto appena si è insediato, ho avuto un incontro in quale ho espresso la mia preoccupazione per questi episodi che in questo luogo si continuano ad avvenire. Li ho denunciati alle autorità e quindi ai carabinieri locali. Però ho notato da parte soprattutto dell'autorità, della prefettura, un atteggiamento di non attenzione verso questi problemi, come se questo problema non esistesse e che quasi si aspettano che poi gli eventi accadano. Io chiedo che vengano sgombrati da questo luogo queste persone perché queste persone sono dei delinquenti. Di tutti quelli che escono dalla protezione perché gli viene rifiutato lo status di rifugiato politico poi possono, non so con quale norma, riuscire a prendere la residenza. Quindi diventano dei cittadini liberi. Quindi sembra che nessuno possa verificare quello che fanno. Sto preparando proprio una lettera in cui chiederò un intervento anche del Ministero dato che qui nient'altro si muove. Quindi io spero che mi risponda e anzi lo inviterò qui a Monterchi a venire e a rendersi conto di persona della situazione. Sono state annunciate l'arrivo di nuove unità per le forze dell'ordine, soprattutto a Rettine. Che ne pensi? Questo è un fatto positivo. Se arrivano più personale sicuramente ce n'è bisogno. Anche se credo che c'è proprio bisogno di normative nuove per arginare il fatto. perché le forze dell'ordine fanno anche un buon lavoro, fanno quello che possono. Ma poi c'è bisogno veramente delle normative che non siano quelle attuali altrimenti il problema non si risolve.